Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo allora subito parlando di quello che è accaduto nei giardini del Porcinai domenica sera. L'accoltelatore, l'aggressore che aveva ferito due persone, due uomini, alla fine si è presentato spontaneamente. Sentiamo. Si è arreso dopo tre giorni di caccia all'uomo. L'accoltelatore dei giardini del Porcinai ad Arezzo, un tunisino quarantenne che aveva ferito gravemente un connazionale equetaneo ancora in pericolo di vita all'ospedale San Donato, si è consegnato agli uomini della squadra mobile. Per lui gravava un provvedimento di fermo della procura per tentato omicidio, giustificato anche dal pericolo di fuga. Il quarantenne ormai messo alle strette avrebbe mandato un parente in questura per far sapere che era pronto a lasciarsi prendere. Poi è atteso nel centro cittadino i poliziotti. Su di lui gli investigatori avevano raccolto una lunga serie di indizi che lo inchiodrebbero a quella notte di follia, un prezzing serrato che lo avrebbe convinto ad arrendersi. Tutto sarebbe nato la scorsa domenica da un diverbio per questioni personali finito a colpi di coltello. L'aggressore con precedenti per spaccio e reati contro la persona subito dopo il fatto di sangue era scappato. In ospedale invece erano finite due persone, un quarantenne colpito all'addome, al volto e alle spalle ed un venticinquenne che invece aveva tentato di far da pacere ma aveva rimediato ferita ad una mano. Le condizioni del ferito più grave restano ancora preoccupanti, si trova nel reparto di rianimazione ed intanto la zona del giardini del Porcinaio, ormai sempre più spesso teatro di fatti di cronaca, attende l'inizio dei lavori di riqualificazione annunciati dal comune di Arezzo. Bisogna fare rete tra le istituzioni perché soltanto lavorando tutti insieme si raggiungono dei risultati, quindi è vero abbiamo arrossato il colpevole, continueremo naturalmente la nostra presenza nei giardini porcinai e in altre strutture della città, però serve anche l'aiuto delle altre istituzioni. Il comune in questo caso sta portando avanti un progetto di riqualificazione dell'area. Nell'escursione c'è stato anche un maxi colpo al narcotraffico da parte della polizia stradale di Battifolle che ha sequestrato 27 chili di cocaina. Un 67enne è stato arrestato e sono stati sequestrati 27 chilogrammi di cocaina purissima. È successo lungo il tratto aretino dell'autosuole ad intercettare il grosso carico di droga. È stata la polizia stradale di Battifolle che ha fermato per un controllo una Renault con targa italiana. A bordo solo il conducente, un cittadino sudamericano di 67 anni. I documenti esibiti e l'atteggiamento sospetto dell'uomo hanno indotto gli agenti ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione dell'auto hanno scoperto che sotto il sedile posteriore era stato ricavato un capiente doppio fondo munito di un meccanismo per la sua apertura che nascondeva 21 panetti di cellofan, ognuno con un profumo al suo interno per mascherare l'odore della droga. Le analisi della polizia scientifica hanno confermato che si trattava di 27 chili di cocaina purissima. Una volta immessa sul mercato il valore sarebbe stato di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Il 67enne, in possesso anche di documenti falsi, è stato arrestato e si trova in carcere. La droga e l'auto sono stati sequestrati. Due importanti operazioni portate a termine proprio nelle scorse ore, quelle che vi abbiamo appena descritto nei servizi. L'arresto del responsabile di quanto accaduto ai giardini del Porcinai e appunto questo importantissimo sequestro di droga. Questo, ma anche tanto altro, è stato ricordato dal questore di Arezzo durante la festa della polizia. Al motto di esserci sempre, la polizia di Stato ha celebrato anche ad Arezzo il 172esimo anniversario dalla fondazione. Ha deciso di farlo nel cuore della città, al Teatro Petrarca, per condividere con tutta la cittadinanza la ricorrenza. Noi vogliamo lavorare per la gente, insieme alla gente. Il nostro motto è esserci sempre e soprattutto lavorare per assicurare una serenità che in questi tempi così dolorosi si è un po' persa. E facciamo del tutto per essere vicini ai cittadini e chiediamo ai cittadini tanta tanta collaborazione. Ma ormai mi considero una retina adottata e posso dire che questi riscontri li stiamo avendo. Una giornata anche per tracciare un bilancio della polizia nella provincia di Arezzo. Un anno operativo intenso, complessivamente, sono arrivate alla sala operativa 17.632 chiamate di emergenza e sono stati effettuati 3.166 interventi. 88 gli arresti, 978 le denunce, 58 poi le segnalazioni di assuntori di stupefacenti. E a proposito di droga, ne sono stati sequestrati oltre 57 chili, 27 nelle ultime ore lungo il tratto a retino dell'autostrada del Sole da parte della polizia stradale. Arezzo è una città baricentrica, che intendo per baricentrica. Si trova in una collocazione geografica, che è quella dell'A1, in cui praticamente è molto semplice entrare in Arezzo con un basista su Arezzo e poi uscire e perdersi nei meandri dell'autostrada in maniera molto facile. Noi facciamo molto affidamento sulle telecamere, soprattutto quelle con lettura targhe. Forte è anche l'impegno nel contrasto alla violenza di genere. 24 provvedimenti di ammonimento per stalking emessi. La violenza di genere, abbiamo fatto un altro passo in avanti, invitiamo tutti a denunciare, abbiamo inaugurato una sala d'ascolto insieme a Soroptimist, che è un modo per far sentire a proprio agio le vittime oggetto di violenza. Presenti infine anche quest'anno alle celebrazioni gli studenti aretini, sul palco del Petrarca, i ragazzi del liceo coreotico. Abbiamo scelto gli studenti perché non ci sono soltanto cose negative. Insomma, abbiamo degli studenti bellissimi ad Arezzo e ne hanno dato ampia dimostrazione. Fiamme in un parco pubblico ad Ambra, sono stati danneggiati i giochi dei bambini. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere di minoranza Gerry Mugnaini, ennesimo episodio addetto di vandalismo che si registra nel nostro territorio, questa volta ad Ambra, in una zona residenziale all'interno di un parco pubblico di recente realizzazione. Non è stato dato alle fiamme appunto lo scivolo che è andato completamente bruciato. È inaccettabile, dice, assistere al ripetersi di questi episodi. Poche ore fa nell'Arettino l'incidente per il pilota Andrea Dovizioso in una pista di motocross del Valdarno. È stato proprio lui, lo sportivo, a rassicurare i suoi fan con un post sui social. Questa volta, l'ho data bene, la mia collezione di fratture diventa sempre più consistente, ma la cosa importante è che l'Attac sia negativa. È lo stesso Andrea Dovizioso a rassicurare i tifosi con un post social dal letto dell'ospedale Careggi di Firenze. L'ex campione del mondo di moto era infatti caduto un martedì mattina sul circuito valdarnese del Motor Park il tasso a terra nuova Bracciolini durante una sessione di allenamento. Ha riportato la frattura della clavicola, oltre ad un lieve trauma cranico ed alcune contusioni. La prognosi di guarigione è di 30-40 giorni. Il pilota, 38enne, ex campione del mondo della classe 125 nel 2004 e poi protagonista di tante vittorie con la Ducati in MotoGP, conosce bene la pista valdarnese. Con lui al momento dell'incidente c'era anche Alessio Chico Chiodi, ex campione mondiale di motocross che vive in Val D'Arno e che è amico da sempre del centauro romagnolo. Per cause ancora da accertare, il campione ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente a terra. Il motociclista di Forlimpopoli è stato immediatamente soccorso e trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso. Grazie a tutti quelli che mi hanno soccorso e al personale medico dell'ospedale, conclude Dovizioso postando la foto che lo ritrae con una vistosa ingessatura al braccio sinistro e la spalla destra bloccata. Tra le reazioni al post anche quella di Valentino Rossi. Gravi disagi questa mattina sul tratto a retino dell'autosole e ovviamente poi c'è stata una ripercussione anche nella raccorda autostradale di Arezzo per un incidente avvenuto tra due camion nella corsia nord tra le uscite di Arezzo e Valdarno. Un tamponamento appunto tra mezzi pesanti che non ha causato feriti gravi ma che ha comportato importanti disagi invece e blocchi soprattutto per il traffico verso Firenze. Uno dei due tir infatti si era intraversato sulla carreggiata. Sul posto i vigi del fuoco, il personale di autostrade per l'Italia e le forze dell'ordine. Torniamo a parlare della vicenda di via Fabio Filzi. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha firmato un'ordinanza con cui viene richiesto di provvedere il prima possibile e comunque entro il termine di dieci giorni a ripristinare le condizioni di normalità nel cantiere di via Fabio Filzi. In particolare si tratta di dover rimuovere tramite degli ino idonei mezzi le acque ristagnanti situate nel retro del fabbricato e in tutte le zone scoperte in cui è presente appunto accumulo di acqua. Ripulire poi l'area del cantiere dalle sterpaglie, dai rifiuti e mettere in atto accorgimenti tali, dice l'ordinanza, da prevenire nel futuro inconvenienti igienico-sanitari. Tutto questo è accaduto, lo ricorderete, perché c'era stato un esposto da parte dei cittadini, successivamente un sopralluogo della ASL e adesso appunto questa ordinanza. Anche ad Arezzo si è festeggiata la fine del Ramadan. Il servizio. È un giorno per voi importante, perché? Perché sicuramente è la fine del Ramadan, comunque la gente dopo un mese di sacrificio riesce ad arrivare a trovare una felicità. Si è concluso nelle scorse ore il Ramadan, il mese di digiuno e preghiera del calendario islamico osservato dai credenti musulmani di tutto il mondo, Arezzo compresa. È uno dei periodi dell'anno benedetti per l'Islam. In queste ore, anche nelle moschee aretine, si celebra la festa della fine del digiuno con una preghiera speciale e con un lauto pasto. Come vedete ci siamo quasi tutti, ci siamo riuniti e insomma ci si festeggia sicuramente. Questo è il bello della fine del Ramadan, la festa Id, si chiama così, Idulfiter. Secondo te Arezzo è una città dove l'integrazione c'è. Voi ovviamente siete di una religione diversa rispetto magari a quella cattolica o a tante altre. Oggi per voi è un giorno di festa, per tanti italiani no, è un giorno normalissimo. Ma riuscite ad integrarvi, a vivere la vostra religione senza problemi? Sì, sicuramente sì, l'integrazione c'è ovviamente, questo sì. Di questo non mi lamenta, ma magari ci sono dei problemi di comunicazione. Quindi se le persone venissero a parlarci con noi, magari noi gli possiamo fornire un po' di informazioni e ci si potrebbe interrogarsi meglio. L'abbraccio è il segno di pace. Con la firma dell'accordo di programma Stato-Regione sull'uso dei 61 milioni di euro destinati alla Toscana arriveranno anche i 4 milioni e mezzo di euro destinati al nuovo hospice dell'ospedale San Donato di Arezzo. Ne danno notizia con grande soddisfazione i due consiglieri regionali del PD, Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli. Questo risultato, dicono che avevamo già preannunciato a gennaio, è un'ennesima conferma della qualità del livello di azione e progettazione della Regione Toscana in ambito sanitario. Tutto ciò avviene, dico dei due consiglieri, nonostante il quadro generale di grande confusione istituzionale generato dal governo Meloni che continua a tagliare le risorse in sanità andando contro ogni logica e contro tutte le regioni italiane, comprese quelle amministrate dalla destra. Parliamo adesso invece di elezioni amministrative. La candidatura a capo di una lista civica di centro-sinistra del dottor Massimo Mandoa, sindaco del comune di Castelfranco Piandisco, trova la convinta adesione di Azione ed Italia Viva. Lo affermano i due responsabili appunto del Valdarno, Luca Trabucco per Azione e Daniele Mugnaini per Italia Viva. Se da un lato, dicono, assistiamo stupiti alla schizofrenia di un PD interessato unicamente a questioni di residenza anagrafica del candidato sindaco. Dall'altro fronte, il centro-destra propone logiche ormai usurate, volte unicamente a pensare al proprio consenso. La storia professionale, dicono ancora i due partiti, umana e politica di Massimo Mandoa, ne fa il candidato ideale per raccogliere e vincere questa sfida. Schermi per la sala di attesa di oncologia donati dai giovani del quartiere di Porta Santo Spirito grazie al ricavato della Lotteria di Pasqua. Circa 350 euro che appunto serviranno per l'acquisto di questi schermi da utilizzare per le chiamate dei pazienti in attesa delle prestazioni e che saranno installati all'interno dell'ingresso della Palazzina Calcite dove appunto sarà realizzata una sala d'attesa esterna. Sono stati quattro i grandi campioni che questa mattina in una palestra a cielo aperto hanno allenato tanti bambini per promuovere sport ed inclusione. Il parcheggio Eden a D'Arezzo si è trasformato in una palestra a cielo aperto. Quattro i grandi campioni di altrettanti sport che giocano con i ragazzi. Questa è la prima tappa italiana del tour Un Campione per Amico. Sì, la prima tappa di quest'anno. Ci hanno contattati poco più di un mese fa per fare questo bellissimo evento. Ci siamo dati da fare perché non è banale organizzare una cosa del genere con oltre 500 bambini. Ringrazio anche l'ufficio scolastico provinciale, le scuole che hanno collaborato, Atam che ha dato la disponibilità del parcheggio e tutti i collaboratori dei quattro campioni che poi sono volontari delle nostre associazioni sportive del territorio che ancora una volta dimostrano la loro grandissima importanza anche per eventi come questo. Un tour che attraversa l'Italia da nord a sud per promuovere nei giovani attraverso lo sport valori come l'inclusione, il rispetto, la resilienza. Siamo molto preoccupati perché nella scuola vediamo bambini che non sanno più correre, che arrivano alle scuole medie, che hanno delle grosse difficoltà nel quaderno perché non hanno fatto l'attività motoria nella loro tenera età. Ci stiamo attrezzando, dobbiamo togliere i cellulari e dobbiamo fare pause attive durante la mattinata. Dopo due ore di lezione fare attività motoria. e poi ricominciare a fare delle attività naturalmente sulle discipline scolastiche. Quattro i miti dello sport italiano come allenatori speciali per un giorno. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Castro Giovanni. Sicuramente il sorriso e il divertimento. La cosa più importante per tutti noi quattro è avvicinare i bambini allo sport perché credo che lo sport forme campioni di vita, non solo di performance. Siamo all'interno di un percorso dove ci vedranno protagonisti dieci piazze come ogni anno e per cui l'idea è proprio quella di dare un impulso al divertimento. Dal gioco al divertimento questi bimbi possono apprendere anche quando sia importante saper fare squadra e magari proiettarsi in un'attività sportiva. Gioia, spensieratezza e senza stress. Lo sport giocato è vissuto con leggerezza e questa è la cosa più importante per i ragazzi. Queste manifestazioni servono a far capire al bimbo di trovare comunque una soluzione, un'opportunità per muoversi perché poi ne acquiste in salute, in serenità, in gioia. Il discorso nostro promozionale è soprattutto questo. Bambini, divertitevi, fate sport. La tecnologia lasciatela da una parte, ci giocate un po' più tardi. vi mandate sui campi a divertirvi. E allora proprio domani mattina alle 11 ci sarà l'intitolazione di una strada a Federico Luzzi, il tennista a rettino scomparso in giovane età. Una strada che si trova nella zona di Viale Santa Margherita. Proprio il ricordo di Federico Luzzi lo abbiamo affidato a Panatta. Federico per me è rimasto nel cuore perché io l'ho visto proprio bambino, l'ho visto crescere, ero un ragazzo che aveva un grande talento ma anche un grande cuore. Tra l'altro tra pochi giorni inaugureranno una strada per lui, forse era anche giusto da parte della città. Bene, sono felice perché Federico ha lasciato il segno non solamente come tennista, ma come persona nel nostro ambiente, è ramato da tutti. Domani ovviamente torneremo su questo argomento con le immagini della intitolazione della strada Federico Luzzi. Per quanto riguarda questo telegiornale è tutto, grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie.